Ciao, sono Alex e sono il creativo del colore. Seguimi e scoprirai tutto il mondo Coverdiffusion. Grandi marche italiane ed europee di vernici, colori, decorazioni, stucchi, tamponati, velature, terre fiorentine, calce, silicati, lavabili, smalti, vernici industriali e ignifughe, antigraffito e impregnanti protettivi per legno. Inoltre, un'ampia gamma di prodotti naturali ed ecologici. Presso i nostri punti vendita troverete tutti i prodotti per decorazioni interne ed esterne, per il professionista e il privato, con vendita all'ingrosso e uno staff altamente qualificato a vostra disposizione, dimostrazioni applicative audiovisive, consulenza tecnica gratuita, servizio di consegna direttamente in cantiere e contatti con i migliori artigiani del settore. Vuoi saperne di più? Vieni a trovarmi in Garenier. Ti aspetto. Vieni a trovarmi in Garenier. Ti aspetto.